È quasi tutto pronto qui nello studio di Ringa perché domani sera a partire dalle 22.30 scopriremo insieme che paese sarà. L'esito del referendum del 4 dicembre in uno speciale Ringa in onda a partire dalle 22.30 con ospiti, commenti, dati in diretta fino a tarda notte. Nel studio di Tele4 ci saranno l'onorevole Massimiliano Fedriga, la parlamentare Sandra Savino, il senatore Lorenzo Battista e il segretario del Partito Democratico in regione Antonella Grimm. Quindi non dimenticatevi, scopriremo il futuro di questo paese a partire da lunedì insieme domani sera in uno speciale Ringa sul referendum a partire dalle 22.30. Vi aspettiamo.